Momenti di paura ieri 30 settembre 2017 per Marilyn Manson, la pop star americana a New York dove si stava esibendo nel palco del Manhattan Center Hammerstein Balloon di New York. Secondo quello che mi portano infatti diverse medie, il cantante di 48 anni si stava esibendo con una cover di Rhythmix su Rhymes quando all'improvviso sarebbe stato travolto dal coloro di una parte della scenografia. In un video che è stato pubblicato su Twitter si vede in modo distinto l'intera scena con il fondale della scenografia che si abbatte sullo showman nel piano della esibizione. Il video ci vede anche gli uomini dello staff che salgono sul palco, sollevano in palcatura provata liberando il buon Marilyn. Come sta Marilyn Manson, è rimasto a terra per alcuni minuti, l'aveva portato via in barella e sarebbe ricoperato in ospedale. Lo spettacolo poi è stato sospeso. Per quanto riguarda l'incidente sarebbe stato spiegato che egli sarebbe stato piattivo di questo incidente nella parte finale del concerto a New York sta ricevendo un cuore mediche nell'ospedale. Grazie per l'ascolto, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate a proposito di questa vicenda che a me avete lasciato in un reddito. Saluti, iscrivetevi e a presto.